Giugno 1985. L'aereo prende velocità sulla pista dell'aeroporto di Linate. Quando si stacca dal suolo sento il cuore in gola. Ho già volato prima ma mai da sola. Una settimana fa a quest'ora mi ero appena alzata dal banco dopo l'esame orale. Fuori ad aspettarmi c'era la mia famiglia. Ero frastornata e lo diventai ancora di più quando vedi mio padre tirare fuori dalla giacca un biglietto per Londra. Non dimenticherò mai le sue parole. Dopo la maturità te lo meriti la tua prima vacanza da sola. Siamo orgogliosi di te Kiki. Il solo fatto di stare seduta qui da sola a guardare Milano dall'oblò mentre prendiamo quota mi fa sentire libera. Da quassù la città ha l'aspetto di un plastico. Resto a guardare la madonnina confondersi tra i tetti delle case. Quando il segnale ci autorizza a slacciare la cintura di sicurezza Michino raccogliere la borsa da sotto sedile. Tiro fuori il mio Walkman e una copia sgualcita di Chiedi alla polvere di John Fante. Infilo le cuffie e inizio a leggere. È il libro preferito di mio fratello Andrea. Qualche giorno fa stavo curiosando nella libreria in salone. Che fai? Mi ha chiesto interrompendo la lettura del giornale. Cercavo un libro da leggere durante il viaggio ma a parte alcuni classici che ho già letto i libri di mamma e papà sembrano tutti noiosi. Ti fidi di me? Dipende. È andato di sopra e qualche minuto dopo è tornato con un libro in mano. Ti piacerà? Ne sono certo. Ho deciso di fidarmi e ho iniziato a leggerlo subito. Andrea e mia sorella azzurra sono gemelli e più grandi di me di sei anni. Sono molto uniti tra loro e profondamente diversi da me. Appunto che a volte giurerei di essere stata adottata se non fosse per la somiglianza con mio padre e mia nonna Minnie. Oggi però mentre i miei occhi emozionati indugiano sulle frasi sottolineate da Andrea mi commuovo. Non siamo poi così diversi penso tra me e me mentre tengo il segno con il dito e rimango incantata a guardare il cielo fuori dal finestrino. Immagino Samuel che mi aspetta e mi copro il sorriso con il libro. Ci siamo messi insieme meno di un anno fa ma non lo vedo da ben sette mesi e solo pensiero di riabbracciarlo mi fa diventare matta. Chissà se alla stazione ad aspettarmi ci sarà anche Sadie. Sadie Taylor è la sorella di Sam. Ha tre anni più di me ed è la mia migliore amica da sempre proprio come mia madre Doris e sua madre Susan. Loro si sono conosciute a Brighton quando erano bambine. Susan abitava nella casa a fianco e andava a giocare tutti i giorni con Doris nel giardino della casa dei miei nonni. Da allora sono cresciute insieme come sorelle e si sono separate solo da adulte quando mia madre si è trasferita a Milano per sposare mio padre Carlo. Così fin da piccoli ogni estate i miei genitori ci portavano a Brighton dai nonni per farci trascorrere un paio di mesi al mare con loro. La mia amicizia con Sadie così come quella tra Samuel e Andrea è nata proprio durante quelle vacanze. Loro però anche se coetanei con il tempo hanno iniziato ad avere interessi differenti mentre noi siamo rimaste unite. I pensieri si susseguono veloci. Mi vengono in mente le giornate trascorse a giocare sugli scogli, i mercatini di vecchi giocattoli che organizzavamo davanti a casa, i pomeriggi trascorsi con Sadie a giocare con le vecchie tazzine da te e di mia nonna e le litigate furiose con i miei fratelli che non volevano farmi giocare a modo mio. Perché non potevo essere una fata mentre giocavamo ai pirati o una principessa mentre giocavamo a indiani e cowboy? Nonno Malcolm prendeva sempre le parti dei miei fratelli mentre nonna Minnie le mie. Scogliatolina mia sei proprio come tua nonna tu, una testona indipendente e sognatrice. mi diceva mentre mi portava a prendere un gelato in attesa che si calmassero le acque. Penso a lei e a quanto mi mancherà in questi giorni. Noi due non abbiamo segreti, per capirci ci basta uno sguardo. Due anni fa nonno Malcolm è morto e lei si è trasferita da noi a Milano. Da allora è come se avessi un'altra migliore amica. Lei e Sadie infatti sono le uniche a sapere della relazione nata tra me e Samuel. L'anno scorso lui è venuto a Milano a studiare italiano ed è rimasto da noi per qualche mese. Vivere sotto lo stesso tetto mi fece accorgere di cose a cui non avevo fatto caso, le sue mani affusolate, quell'andatura spedita, la dolcezza dei suoi occhi e i modi gentili. Una mattina di inizio giugno mentre mi preparavo per andare a scuola sentì della musica provenire dal piano di sotto e scesi pensando che mia sorella e mia madre fossero rientrate. Con mia grande sorpresa trovai Samuel, seduto sul divano impegnato a leggere un libro. La radio trasmetteva Anna e Marco di Lucio Dalla. Lo ricordo perché da allora ho un debole per quel brano. Lui alzò lo sguardo e mi disse, ciao Vicky, ti piacerebbe saltare la scuola e passare la giornata con me? Perché? Dissi senza pensare. Così per passare una giornata insieme. Mi piacerebbe che mi mostrassi la città, rispose lui. Accettai la sua proposta. Passammo tutta la giornata in giro per Milano, passeggiando e chiacchierando come se ci fossimo appena conosciuti. Restammo mano nella mano per ore, ma non successe nulla di più. Adesso pensare a quella mattinata mi fa sorridere. Il giorno successivo lo trovai ad aspettarmi fuori dalla scuola con in mano una rosa. mi baciò senza dire una parola, come se fosse l'unica cosa rimasta da fare. Mi manca tanto la tenerezza dei suoi gesti.